Diamo tensione, ecco qua, il pannello è tutto operativo, 24 volt, 1 ampere e 46 assorbiti per una potenza da 35 watt, tutti i led sono accesi, ora lascio così per diverse ore per fare una prova di durata e essere sicuro che tutto quello che abbiamo fatto a livello di saldature, connessioni e sostituzioni sia stabile. Devo riconoscere che è un'atmosfera un po' inquietante, ecco il nostro pannello sotto test, tutto regolare, sentiamo la ventola dell'alimentatore che giustamente è entrata in funzione perché 30 watt per tanto tempo, poi la temperatura ambiente è decisamente elevata in questi giorni, ci sta. Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio, questa sera doppio episodio su un tabellone segnapunti basket. Avremo due casi distinti, il primo è un tabellone che ci ha consegnato Fabio Iac della provincia di Bologna, che presenta diversi problemi. All'inizio il tempo era completamente spento, quindi i led non si accendevano più, e dopo un temporale invece era tutto acceso. Di conseguenza andremo a vedere come è realizzato questo schema, è degli anni 90, ricostruiremo gli schemi perché non li abbiamo e cercheremo di capire cosa è successo. Il secondo caso invece è un caso che abbiamo già visto nel video 825, Marco B, presidente di una nota società di basket di Bologna, ci aveva fornito i pannelli che riguardavano sempre il tempo, questa volta invece guarderemo i pannelli del punteggio e utilizzeremo un approccio un pochino più analogico rispetto all'altra volta, dove invece aveva utilizzato Arduino per animare i timer. E quindi, buona visione! Vediamo il contenuto della scatola che ci ha fatto recapitare Franco, letterina di presentazione. Alcuni dettagli aggiuntivi, tensione di funzionamento 5V continui, tensione in uscita dal trasformatore dovrebbe essere 14V alternati, lo verificheremo, sul tabellone c'è un alimentatore a 5V continui che alimenta solo i led con i nomi delle squadre, Non è stata smontata la schedina che riceve il segnale perché è un po' difficile da smontare Vediamo cosa c'è nella scatola Questo si direbbe essere manuale utente, direi per l'utilizzo del tabellone, sì in effetti ci sono tutte le indicazioni Valigetta misteriosa Ok, questa dovrebbe essere per il comando del tabellone Queste sono due schede che presentano problemi e qua abbiamo un alimentatore Diamo uno sguardo all'unità centrale realizzata su questa valigetta Qui abbiamo tutti i connettori Direi che qua abbiamo l'alimentazione con questo alimentatore che è in dotazione Per cui prima cosa direi che alimentiamo e vediamo cosa accade Ho dato la 230, led verde, bottone di accensione, sì Parte con il logo, Paul Gianni Ci sono le diverse discipline, palacanestro, ok, pallavolo Selezioniamo palacanestro Abbiamo una rappresentazione del tabellone virtuale Sul quale possiamo impartire dei comandi, ad esempio più 3 punti Ok, vediamo che qua modifichiamo il punteggio Poi ci sono falli, eccetera Quindi da qui si gestisce il tabellone Ecco le due schede che sembrano diverse Ma in realtà il circuito stampato è identico Con diverso montaggio Riconosciamo un ponte raddrizzatore che qui è generoso E qua è stato sostituito con un ponte molto più piccolo Piccola capacità di livellamento Presente qui ma non qui Qua abbiamo un relais e qua invece no Riconosciamo dalle piste il passaggio della alternata Infatti questa è una bobina di modo comune Filtro capacitivo, protezioni Quindi qui abbiamo il primo stadio di ingresso dell'alternata Riconosciamo qui un regolatore, un 7805 Montato con il dorso su questa pad metallica Per dissipare bene il calore E poi qua la parte digitale dove sembra esserci un micro Leggo pic e poi configurazione di componenti leggermente diversa da qui a qui E anche di connettori L'anomalia che Franco ha segnalato è che non viene animato il tabellone Ossia tutti i led rimangono sempre accesi Di conseguenza possiamo supporre che l'alimentazione ai led magari va bene Ma per quanto riguarda il controllo digitale Quindi della trasmissione dei dati qualcosa non va Ora siccome abbiamo due micro qui a bordo Possiamo fare un primo controllo sulla parte digitale per vedere se c'è attività Ma prima di tutto cerchiamo di ricostruire lo schema Perché dobbiamo capire come alimentare questi oggetti Analizziamo la prima scheda Non abbiamo lo schema elettrico Lo ricostruiamo Questa è un'attività che aiuta molto a capire la funzione della scheda Tutto sommato è abbastanza semplice Ci sono piste grandi quindi si seguono bene Cominciando da questo connettore che ho chiamato C1 Riconosciamo le tracce che portano al ponte raddrizzatore Quindi sono due segnali che portano l'alternata Da questo ponte poi abbiamo il fusibile Questo E un raddrizzamento eseguito con questo piccolo diodo Il quale poi ha un condensatore di livellamento subito qui dietro Da 1000 microfarad 25 volt E poi le piste vanno a questo integrato Che è un 7805 Regolatore lineare che ha il compito di creare la 5 volt Che verrà poi utilizzata dalla parte digitale Molto semplice perché abbiamo solo un microprocessore Che è un PIC 16F876 Che si interfaccia con questo Che è un SN751768 Ed è un transheaver per reti seriali Tipo 422 o 485 Riconosciamo qui le resistenze per l'adattamento della linea La terminazione Con i segnali RX più RX meno Portati qua anche in serigrafia Dall'altra parte abbiamo un'interfaccia verso il mondo analogico Tramite questo integrato che è un ULN 2004A Che contiene transistor Darlington Quindi in grado di pilotare molto probabilmente i LED Secondo questo ragionamento possiamo intuire che dal connettore C1 Arrivano le linee seriali in ricezione RX più RX meno Portate al micro Il quale attua i LED corrispondenti alla volontà di comando Che perviene appunto da questa linea seriale Esiste poi un'altra sezione della scheda Questa qui sotto Che ci fa pensare essere collegata alla 230V alternata Difatti questo condensatore è un condensatore di sicurezza Valore di tensione 275V Il classico condensatore che si mette nel filtro IMI a monte Questa è la bobina di modo comune Abbiamo due vari stori L'ho ricostruita qua questa parte Ma risulta essere sezionata dal resto della scheda Quindi mi viene da dire che non è utilizzata Questa è la scheda 2 Che ha lo stesso circuito stampato Ma un montaggio diverso In rosso ho tracciato le modifiche Rispetto alla scheda che abbiamo visto prima La prima differenza che appare È il ponte raddrizzatore Che è decisamente più importante 25A Sarebbe questo forse quello nominale Perché la geometria è questa Sull'altra scheda l'hanno scelto di metterlo più piccolo Abbiamo rispetto a prima Attaccato al peak Un real time clock Un PFC 856 3F Con batteria Questo e questo Inoltre vediamo che manca la parte di comando diretta Con i Darlington Quindi l'ULN 2004 E il connettore non sono montati Ma è viceversa presente Un relè Che abilita la tensione di alimentazione Verso l'esterno Infatti notiamo che dal microcontrollore Abbiamo una pista Che porta a questo transistor BJT Qua non ho indicato la resistenza in base Il transistor pilota questo relè Che è collegato in maniera Che il contatto normalmente chiuso Non è connesso Viceversa il normalmente aperto È portato fuori a connettore Significa che la tensione 12V Presente a bordo scheda Viene inviata da comando del microcontrollore Fuori su connettore Probabilmente per alimentare delle altre sezioni Anche in questa scheda È presente la sezione in alternata 230 Che non sembra essere utilizzata Perché la pista è sezionata a questo livello Procediamo con le prime verifiche Sulla prima scheda Direi di alimentare su questo ponte Per vedere se abbiamo la 5V E vedere se la parte digitale In presenza di alimentazione Si anima Eseguiamo un semplice test Sul ponte raddrizzatore Per vedere se i diodi sono integri Sì 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 Vediamo l'ultimo Ok Possiamo alimentare Abbiamo verificato il ponte raddrizzatore Possiamo quindi permetterci di alimentare Direttamente in continua Sui terminali più o meno del ponte Ho limitato la corrente a 100mA Su 12V Diamo tensione 12V 27mA assorbiti Verifichiamo le tensioni Direttamente sul regolatore di tensione Pin a massa Pin 1 Questo è l'ingresso 11.29 D'accordo Qua abbiamo il sicuro Se vi ricordate c'era un diodo In serie Nello schema E tensione di uscita del regolatore 5.04 Ok Vediamo se il micro è alimentato Questo modello di PIC Ha VCC e VSS Fra i pin 19-20 5.04 Ok Vediamo se c'è attività sul micro Utilizzo questo oscilloscopio Tektronix TDS2024 Visto in riparazione Nel video 626 Allora i pin dell'oscillatore dovrebbero essere sul 9 Eccolo qua Troviamo sorgente sinusoidale Questo ci va bene perché siamo sull'oscillatore 16MHz la frequenza rilevata Perfetta Vediamo il pin 10 L'altro Ok Andiamo su una porta a caso Ad esempio RA2 Anzi RA0 Pin 2 Qua abbiamo un segnale Onda quadra Stringo la base tempi Sì c'è attività Quindi il micro è sveglio Sta lavorando Come ci aspettiamo Alimentato E con il clock funzionante Franco ci dice che l'anomalia Presenta tutti i led accesi sui tabelloni Andiamo a guardare I segnali di controllo A questo integrato Che è l'ULN2004 Che sono dei transistor Darlington Che accenderanno le filiere di led Per vedere se effettivamente Sono tutti alti Prendiamo ad esempio Il primo pin Qua Vedete Trovo un fronte di salita Quindi in realtà Qua stringo la base tempi Per vedere un po' meglio Qua ho degli impulsi Quindi in realtà Questa è animata Vediamo l'altra Identica Eh sì Sono tutte uguali Tutti gli ingressi Sono animati Con Un segnale impulsivo Vediamo le uscite Di questo integrato Ci mettiamo direttamente Su questo connettore Anche se siamo in aperto Quindi non si vedrà un granché Qualcosina si vede Dobbiamo aumentare La sensibilità verticale Comunque Sembrerebbe che Il comando Di default Di questa unità micro Sia presente Anche sulle uscite Verso i led Per questa scheda Quindi Le verifiche di base Sembrano essere state superate Ossia In assenza di segnali Dalla seriale Vediamo che comunque Il micro è attivo E pilota i led Con una modalità Impulsi Tutta uguale Ripeto Le stesse verifiche Anche sulla scheda 2 Con alimentazione 12 volt L'assorbimento È di 18 mA Questa è la forma d'onda Che rilevo Su il pin In ingresso Per l'oscillatore Abbiamo una frequenza Più bassa Di 4 MHz Questo micro Lavora Con funzioni diverse E effettivamente Anche l'oscillatore È diverso In questo caso Infatti abbiamo Un risuonatore ceramico A 3 pin 4 MHz Mentre prima Avevamo un quarzo 16 MHz Con i classici Condensatori Sui due rami Come abbiamo fatto Per la prima scheda Vediamo se c'è Attività sui pin Questa è la porta RA Pin 0 Segnale 5 volt Fermo Ovviamente Questo micro Ha funzioni diverse Quindi I segnali Sono diversi Rispetto a prima Ecco qua Troviamo un segnale Digitale Stringo la base tempi Sì Ok Quindi direi che Effettivamente Il micro Sta girando Anche qui Questo Ha Un periodo Molto più Lento Ok Questa è la parte Dello oscillatore Va bene Ecco Questo invece Un segnale A frequenza Un pochino più elevata Comunque Sì Il micro È sveglio Già che ci siamo Controlliamo Lo stato di carica Di questa batteria Pastiglia Che serve per il Real time clock Funzione datario 3.29 volt Ok Perfetto Da una prima Rapida Occhiata Dunque Queste schede Riceventi Ci sembrano Essere Operative Puntiamo La nostra Attenzione Allora Sull'unità Centrale Che Impartisce I comandi Tramite Cavo Seriale O Radio Frequenza Qui Sono presenti Tre jack Tutti Uguali In realtà Questo Non è Stato Implementato Per La connessione Seriale Per collegarmi Ho bisogno Di un jack Da 6,35 mm Stereo Qui Ho un adattatore Utilizzerò dunque Un altro jack Di modo che Da qua Potrò prelevare I segnali Che dovrebbero essere Tre Segnali differenziali RX più RX meno E la massa Collego la sonda Dello oscilloscopio Tra i due poli Del nostro connettore jack E lascio scollegato La massa Immagino Che il segnale Differenziale Sia appunto Tra questi due poli Se questo è vero Dovremo trovare Un segnale Alternato A valore Medio nullo Accendiamo La centralina Display Logo Eh Il segnale È andato basso Vedete Eccolo E qua Abbiamo Un fronte Di un segnale Stringiamo La base tempi Eh sì Questa è una comunicazione Seriale Direi 485 Abbiamo i due livelli Più o meno Mi sono posizionato Sull'uscita Numero 2 Riaccendiamo Vediamo cosa accade E anche qui Il segnale va basso E poi Teoricamente Ecco Riparte la comunicazione Seriale Sembrerebbe dunque Che la centralina È perfettamente Funzionante Funzionante Diamo un'occhiata Alla decodifica Del segnale Seriale Con Rigol Qua ho In realtà RS232 Che sappiamo Avere livelli Elettrici diversi È uno standard Un po' diverso Però possiamo Vedere se si riconosce Qualche trama Questa È una Trama di Segnali Ripetitivi Ci fa pensare Che il tempo Di bit Sia questo Di conseguenza Dobbiamo aumentare La velocità Il board rate Spingendo qualche tasto Sulla centralina Però abbiamo Qualche trasmissione Di dato Che non riusciamo Comunque a decodificare Qua bisognerebbe Guardare bene Con La 485 La cosa che interessa A me È comunque Che ci sia Attività Sulla porta seriale Per dire Che la centralina Sembra essere operativa E il problema È a valle Ho collegato La centralina Alla scheda ricevente Con dei fili volanti Non abbiamo Grossi problemi Perché il collegamento È corto Poi sappiamo Che comunque La 485 È molto immune Essendo un segnale Differenziale Ho provato A spingere Qualche tasto Ma il segnale Che viene impostato Dal micro Verso i led Rimane sempre stabile E questo torna Con il fatto Che i led Rimangono sempre accesi Dal datasheet Del transceiver Per RS 485 Vediamo Che i segnali Che ci interessano Sono 6 e 7 Che sono i segnali A B Verso il bus E quindi A connettore E poi I segnali D e R Che sono Rispettivamente Rispetto al receiver 485 Il dato in uscita E il dato in ingresso Questi sono Mappati sui pin 4 e 1 Che sono poi Collegati Ai pin 15 e 18 Del pic Qui mi trovo Sul pin 1 Del transceiver E trovo Sull'uscilloscopio Il segnale Che viene trasmesso Dalla centralina In 485 Mi sono spostato Sul micro E lo trovo Anche di là Quindi Il nostro Microcontrollore Riceve Dalla centralina Questo comando Nel frattempo Sono arrivate Anche queste schede Punteggio Con led Ogni led Ha una piccola calotta Per aumentare La visibilità Della cifra Altra scheda led Per il nome Delle squadre Ora dobbiamo collegare Questi oggetti Alla scheda di attuazione Vediamo Come fare Abbiamo ricevuto Questa indicazione Ad esempio Il collegamento Su questa porta Di uscita Direttamente al pannello Il cavetto Al pin 1 Marcato in rosso Dobbiamo capire Il verso di inserimento Perché Può essere inserito Nei due versi Seguiremo le piste Per capire La logica Dalla scheda driver Vediamo che La prima fila È collegata A questa grossa pista Che è sul fusibile Quindi questo è il positivo La seconda fila Questa qui È invece collegata A quest'altra grossa pista Che è la massa E quindi abbiamo Prima fila positivo Seconda fila massa Questo torna perfettamente Con la scheda a led Perché La prima fila Sappiamo che va Qua sul condensatore Elettrolitico Polo positivo Seconda fila Invece sul negativo Ho collegato la scheda Alimentato Tutti i led Sono spenti Verifichiamo Verifichiamo la tensione Ai capi del condensatore 5 volt Quindi la scheda È alimentata Questo è uno Shift register È un 595 In pratica Sono tanti Transistor MOSFET Dei quali Si rende disponibile Il terminale Di drain Con comunicazione Seriale Si sparano Dentro i dati Seriali In modo da Accendere Le diverse stringhe Verifichiamo Verifichiamo la capacità Di pilotaggio Dei led Da parte Di questo integrato Semplicemente Portando a massa Il lato Che sarebbe Esposto sul drain Quindi Facciamo le veci Di questo shift register Se ad esempio Tocco con massa Qui Accendo Questa striscia Le altre Immagino Eccole Qua ne ho toccate due Va bene Questa è la terza Sui led Non ci sono problemi Però È evidente Che non abbiamo Comunicazione Tra le due schede Di fatti Viene pilotato Tutto spento Franco ci dice Che normalmente Quando tutto è acceso L'orologio Deve funzionare Anche in assenza Di comunicazione Con la centralina Questo non avviene Led tutti spenti E questa è l'anomalia Che avevano riscontrato Poi c'è stato un temporale Durante il fine settimana Quando hanno riacceso Hanno trovato Tutti i led accesi Cosa che adesso Però io non verifico più Mi sono messo Sul pin 13 S-R-C-K Che è il clock Che dovrebbe arrivare Dal micro Sul pin 3 Che è l'ingresso Del dato seriale Invece Non abbiamo nulla E questo potrebbe spiegare bene Il fatto che Il nostro display È completamente spento Con il multimetro Vediamo Questo pin seriale A che pin Corrisponde Di questo connettore È il 13 E poi sul micro Questo pin corrisponde Al pin 2 Se vado con l'oscilloscopio Sul micro Ovviamente Visto che c'è continuità Trovo anche qui Segnale seriale Piatto Quindi il micro Non sta comandando L'orologio Ho osservato I segnali con l'oscilloscopio Di questo micro 16 LF73 A 28 pin Qua c'è anche il pin out Della versione A 40 pin Ma non interessa questa Trovo segnali Alti Bassi E qualche segnale Che è a impulsi O diverse frequenze Ma sul nostro pin seriale L'R A0 Abbiamo 0 Dunque Il micro È in attività Ma non sta comandando L'orologio Sempre spuntando Dal connettore Ho trovato Che il clock seriale Corrisponde al pin 5 Del micro Dove effettivamente Ritrovo i pacchettini Di clock Per inviare i dati seriali Per essere sicuri Che gli shift resistor Siano operativi Ci metteremo Al posto del micro Con un generatore Di funzione Infatti Manderemo un segnale A onda quadra A frequenza variabile Sul pin seriale Per vedere Se riusciamo Ad accendere i led Perché il segnale Di clock Lo abbiamo visto Forniremo appunto Il dato esternamente Forniamo una frequenza Di 1 Hz E quindi Una volta al secondo Tutti i led Vengono alimentati In questa modalità Abbiamo tutto acceso O tutto spento Per alimentare I singoli segmenti Dovremmo creare Una codifica Con delle parole seriali Per abilitare Solo L'uscita Che ci interessa Però Lo scopo Era quello Di validare Appunto Il funzionamento Di questo shift register Ho reinserito Anche il secondo Shift register E siccome Sono uno In catena All'altro Anche la seconda Cifra Viene comandata Difatti Primo dato seriale Transita qua E dopodiché Viene portato Su questa seconda Cifra Verifichiamo Se c'è attività Con l'integrato PCF 8563 Che è un real time clock Per fornire Il datario Al micro In particolare Vediamo i segnali SCL SDA Che sono I segnali Utilizzati per la comunicazione I quadro C Questo è SCL Quindi c'è Attività di comunicazione I dati Sono zero Ma lì poi Il micro Consulterà il datario Quando ne ha bisogno Ho collegato La scheda Alla centralina Con i tre fili In seriale Come visto prima Per essere sicuri Che non serva In realtà Un comando Da parte Della centrale Per abilitare Le cifre Del tempo Seleziono La modalità Pallacanestro Preset Da qui Abbiamo la possibilità Di impostare Dei valori Sul tempo Ho messo Ad esempio 1255 Ma non cambia niente A questo punto Tutti i controlli Principali Li abbiamo fatti Verificando Che non ci siano Dei guasti lampanti Esiste comunicazione Ci sono Tutte le connessioni Operative Il problema È che proprio Il micro Non impartisce Comandi E secondo me Potrebbe essere Che a livello Di programma Qualcosa Si sia alterato Quindi adesso Bisognerebbe Recuperare L'immagine Del programma Da rimettere In flash E riprogrammarlo Sentiamo Franco Se si riesce Ad avere L'opportunità Di riflessare Il micro Passiamo ora Ad analizzare Un altro tabellone Da basket Portato da Marco B Presidente Di una nota Società Bolognese Di basket Lo avevamo Già visto Nel video 825 Per quanto Riguardava La riparazione Delle cifre Del tempo E all'epoca Avevo utilizzato Un arduino Per simulare La centralina Che non avevamo Questa sera Invece diamo Un'occhiata Ad altri pannelli Che riguardano Il punteggio I falli Che hanno Qualche led Non funzionante Probabilmente Utilizzeremo Una tecnica Un pochino Più analogica Perché è solo Il problema Di qualche led Ecco qui I due pannelli Che ci ha portato Marco Questi fanno parte Del punteggio Riconosciamo infatti La stringa Delle centinaia Decine unità Sono due pannelli Identici Avranno esattamente La stessa architettura Che abbiamo visto Nel video 825 Difatti Ho già Identificato Gli stessi integrati Se vi ricordate Abbiamo degli Shifter register Dei 4094 Che permettono Di fare transitare I dati Che vengono Mandati in seriale Dalla centralina Per animare I diversi led E anche Degli ULN 2023 8 transistor Darlington Che accendono I diversi segmenti Verifichiamo La funzionalità Da prima Della cifra Dei falli Questa qua Con led verdi Sfruttiamo le informazioni Ottenute l'ultima volta E quindi Posso applicare La 24 volt Sul connettore Avevamo identificato Il pin out Grazie a questo Condensatore elettrolitico E andiamo Ad animare Una stringa Alla volta Semplicemente Portando a massa L'estremo Di queste resistenze Infatti Ogni fila Di 7 led Ha questa resistenza Che serve Per limitare La corrente Che da questo estremo È collegata Al collettore Del transistor Darlington Quello che accende La stringa Noi porteremo Direttamente Massa qui Di modo Che vedremo Se la serie Dei led Si accende Basta che uno solo Sia in circuito aperto Che tutta la stringa Non funziona Ricordiamo Che le modalità Di guasto Che avevamo osservato L'altra volta Erano O led aperto Oppure In corto circuito Quindi teniamo Anche sotto controllo La corrente Forniamo Una tensione Di 24 volt Esterna Limitata A 100 mAh Di modo che così Se ci fosse Qualche problema Di corto circuito Non arreccheremo Ulteriori danni Abilitiamo La tensione Ok Questa prima stringa È operativa Assorbimento Dei 7 led Con la loro Resistenza Delimitazione 36 mAh Ho numerato I 7 segmenti Per quello Che abbiamo visto Dunque La riga 5 È ok Ho trovato Poi Due possibili Configurazioni O questa Che chiameremo A Che è quella Che abbiamo appena visto In cui c'è La 12 volt I 7 led Resistenza E il transistor Ho trovato anche Delle configurazioni Di tipo B Ossia La resistenza Viene messa Subito Sul 12 volt E poi I led Sono attaccati Qua Sul collettore Del transistor Questa è la fila Numero 3 E era una di quelle Segnalate come Non funzionante Osservando Molto bene Si nota Che c'è del marroncino Proprio qui Il che mi fa pensare Che sia passata Una grande corrente Che abbia portato Tutti i led In cortocircuito Verifichiamolo Con il multimetro Multimetro In modalità Prova giunzioni Qua col simbolo Del diodo Se trovassi Un cortocircuito Avrei il bip Verifichiamo Il primo Diodoletto E si Questo è in corto Come pure questo Dunque La nostra ipotesi Era corretta Questo marroncino Giustifica effettivamente Una grande corrente Di cortocircuito Che ha Fulminato Tutti questi led Li andiamo a sostituire Per disaldare i led Sfrutteremo La gravità Infatti Il peso del led Fare in modo Che Si estraga da solo Questo è molto comodo Perché così Non dobbiamo Ciucciare stagno Basta semplicemente Portare Un po' di stagno In superficie Sui due pin Che sono comunque Bene la pad Ho un po' di scorta Di led 5 mm Che avevo utilizzato L'ultima puntata Per la riparazione Li ho sostituiti Tutti e 6 In questo caso Vedete che questo segmento È da 6 Così come Questo e questo Quelli orizzontali Invece Quelli verticali Sono da 7 Prima di ridare tensione Però Verifichiamo il valore Della resistenza In serie Perché C'è da chiedersi Come mai Si sono bruciati Tutti in cortocircuito Se questa resistenza Fosse andata in corto Potrebbe spiegare il guaio Andiamo a vedere 268 ohm No Va bene Quindi possiamo Ridare tensione Ecco qua Abbiamo ripristinato Questa riga Con led Tutti nuovi La luminosità Di questi È identica A quelli originali Sono riuscito Esattamente A trovare Lo stesso modello Ho portato a massa Anche questo punto Per accendere Questa striscia Che però Rimane spenta A differenza di prima Qui Il problema è diverso Probabilmente avremo Un' Apertura del circuito Perché Nonostante Sia presente La tensione Ai capi Della resistenza Più i diodi Non si accende Quindi ci sarà Di sicuro Un'interruzione Come visto Nella parte 1 Per il test dei led Semplicemente Modalità aggiunzione E li accendiamo 2 ok 3 ok 4 ok 5 interrotto 6 interrotto E 7 interrotto Quindi questi ultimi 3 led Risultano essere Il circuito aperto Allora Prima di smontarli Facciamo una ripassatina Alle saldature Cosa che poi Dovremmo fare Su tutta la scheda Perché essendo passati Un pochino di anni Magari per un banale Problema di ossidazione O di rottura Saldatura Si interrompe Il collegamento Ho ripassato Le saldature Di tutti i diodi Vediamo di nuovo Gli ultimi 3 No No Questo non si accende Questo Questo si Questo era un problema Di connessione Anche questo Sto testando La riga centrale Portando la massa Nella resistenza Nel punto giusto E anche questa è spenta Anche in questo caso Era un banale problema Di collegamento Ripassando tutte le saldature Abbiamo risolto Ho segnato Tutti i punti di connessione Con questi pezzettini Bianchi Per essere sicuri Di collegare Dal lato giusto Test finale Tutto acceso In conclusione Questa cifra Ha avuto bisogno Di 7 led In sostituzione E 3 connessioni Che erano precarie La cifra dei falli Completamente accesa Assorbe 270 mAh Su 24 volt Per una potenza Di 6,4 watt Per velocizzare il test Mi metto Direttamente Sui collettori Dei transistor Darlington Di questo integrato È un UL2803 E su questi piedini Dal 18 all'11 Abbiamo esattamente Questi pin Di conseguenza Porterò la massa Direttamente Su questo piedino Come se il transistor Fosse acceso Per vedere Se si accendono I diversi segmenti Cominciamo Dal pin 18 Niente Si vede che non è Un'uscita collegata 17 Sì ce l'abbiamo Tutti i led Sono accesi Anche sotto la mia mano 16 Ok 15 Bene Tutti 14 Tutti 13 Tutti 12 Ok E infine 11 Sì Questa cifra È tutta Funzionante Ripeto il test Per la cifra Delle decine E delle centinaia Che sono governate Da un unico UL 2803 Pin 18 Ok Tutti accesi 17 16 Ecco Questa è la cifra Delle centinaia Governata da un'unica uscita 15 14 13 12 E 11 Eccoli qua Anche queste cifre Sono tutte ok Esaminiamo ora L'altra scheda Il punteggio degli ospiti Colleghiamo sempre L'alimentazione Secondo lo schema Che abbiamo derivato Nell'ultimo episodio Forniamo la 24 volt Così potremo fare Le nostre verifiche Eseguiamo il test Sulla cifra dei falli Applicando il metodo Appena visto Quindi direttamente Su OLN 2803 Uscita 18 Ok abbiamo la prima riga 17 16 15 Abbiamo anche questo pallino Bene Uscita 14 13 12 11 11 11 Niente Qua non ce l'abbiamo Vediamo il common cathode Uscita 10 Che accende tutto Ecco Infatti ci manca Questa striscia qui Perfetto Anche in questo caso Il problema era Banalmente su un led Su una connessione Ripassando tutte le saldature Il collegamento è stato ristabilito E tutto è ok Qua è un modo comodo Per testare Direttamente sul common cathode Il cathode Che è comune a tutti Quindi accende Qualsiasi cosa Ci permette di verificare Che effettivamente Tutti i led Siano operativi Ho applicato La tecnica del catodo Comune Su tutti e tre Gli integrati Così abbiamo Un collaudo Esaustivo Dei led In queste condizioni La corrente assorbita Da tutto il tabellone Pari a 756 mAh Per una potenza Di 18.1 watt Con l'audo finale Vediamo se Verremo proiettati In un'era geologica Diamo tensione Ecco qua Il pannello È tutto operativo 24 volt 1 ampere 46 assorbiti Per una potenza Da 35 watt Tutti i led Sono accesi Ora lascio così Per diverse ore Per fare una prova Di durata E essere sicuro Che almeno Tutto quello Che abbiamo fatto A livello di saldature Connessioni E sostituzioni Sia stabile Devo riconoscere Che è un'atmosfera Un po' inquietante Ecco il nostro pannello Sotto test Tutto regolare Sentiamo la ventola Dell'alimentatore Che giustamente È entrata in funzione Perché 30 watt Per tanto tempo Poi la temperatura ambiente È decisamente elevata In questi giorni Ci sta Bene E con questo Finisce La doppia puntata Sui tabelloni Segnapunti Basket Io vi ringrazio Per avere visto Il video Come sempre Se vi è piaciuto Vi è stato utile Un bel pollice in su Io vi saluto Ciao E alla prossima Monster Kill E alla prossima E alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.